Siamo nel laboratorio artigianale di Alvezzio Esposito e Alvezzio sta cucendo la tappezzeria di una balilla a tre marce. Il bordino è in questo momento, possiamo vedere la precisione con cui cuce e stiamo realizzando anche i pannelli per quest'auto. Il tessuto è un tessuto spigato grigio, esiste anche il colore Alvezzio marrone. Abbiamo già tagliato sui modelli. E adesso stiamo cucendo. A cosa serve questo tagliato? Per fare la curva. Per curvare meglio. Ci sta svelando dei segreti il signore Alvezzio. Vedremo poi il prodotto finito a breve. Grazie. Il schienale del sedile davanti, come vediamo, è trapuntato e verrà imbottito con del feltro per dare forma a questa cannellatura che abbiamo riprodotto. Siamo nella fase in cui Alvezzio sta rifinendo la tappezzeria della balilla a tre marce. Possiamo vedere come imbottisce la cannellatura. quelle fascette che abbiamo visto precedentemente, queste che vediamo qui bianche, sono importantissime per dare l'effetto cannellato o trapuntato. Ecco come Alvezzio imbottisce con del feltro la tappezzeria. Si può vedere. Il meccanismo è molto semplice. Tira con un'asta di ferro una strecettina di feltro. Ma nello stesso tempo ci vuole precisione perché non deve piegarsi in modo sbagliato altrimenti dà un effetto non gradevole. per la tappezzeria. Ecco l'effetto finito. Eccolo qui. Si può vedere. Eccolo qui. Questo è l'effetto finito. Grazie Alvezzio. Grazie. 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 Grazie.